nuova puntata di cuore azzurro a tutti ben arrivati certi che si sarebbe voluto commentare qualcosa di diverso questo in dubbio credo non soltanto da parte mia ma anche di Tommaso Tentoni buonasera a tutti e Giovanni Chiorazzi un saluto a tutti quindi da chi è stato protagonista in campo a chi è protagonista dei commenti sulla carta stampata e sul web insomma presente puntualmente per sottolineare quello che succede all'interno del campo quello che è successo in questo derby che era già di per sé un derby inatteso chi avrebbe mai potuto pronosticare che un giorno il derby si sarebbe giocato con una trasferta gestibile addirittura in bicicletta lo dico in prima persona perché ringraziando i tifosi ho fatto questa passeggiata da Novara a Romentino con la bicicletta ed è stato piacevole è stata una bella iniziativa da parte dei tifosi la partita purtroppo non ha ripagato quelli che erano gli entusiasmi di quello che si prevedeva potesse succedere alla vigilia insomma una pre una piena ripresa del ritmo invece si sono aperti tutta una serie di interrogativi e come succede quando le cose non vanno bene si passa dall'elogiare la squadra a cercare più un'analisi rivolta verso i singoli che trovo sia un modo non troppo corretto di inquadrare la situazione per questo che prima di ogni altra cosa vorrei chiedere a Tommaso che sono felice abbia finalmente disputato i suoi 90 minuti completi al di là di quello che è stato il rientro di Paglino di Vutai e di Laribi rimarcare i 90 minuti giocati nella gamba di Tommaso Tentoni per me è già un qualcosa di importante sei convinto che sia qualcosa da riprendere come squadra? Sì sicuramente sì per quanto riguarda me sono stato contento di questi 90 minuti che era due mesetti che che mi mancavano e per quanto riguarda la squadra ieri è stata una partita comunque difficile tosta e purtroppo non è andata come come volevamo perché siamo tutti rammaricati vogliamo assolutamente tornare alla vittoria il prima possibile e già mercoledì abbiamo un'opportunità importante per farlo e ce la metteremo tutta per andare in campo e vincere questa questa partita che ormai manca da da tre partite appunto ci siamo fermati tra l'altro vicini a dove la scena si è compiuta durante la giornata di domenica infatti siamo a Gagliate al Gallo d'Oro e siamo felici di essere ancora una volta ospiti di questo locale che ti fa respirare l'aria del tifoso perché chi ha in mano le fila del locale è un appassionato e un cuore azzurro di quelli veri quei cuori azzurri che in questo momento si stanno domandando che cosa sta succedendo tu ti sei fatto delle ipotesi su che cosa possa essere ammesso che la si possa trovare di comoda pronta presa la chiave di svolta ma guarda è una bella domanda sicuramente la squadra ha dei mezzi che per la categoria non hanno uguali penso che anche mister marchioni si stia facendo questa domanda perché comunque a fine gara nell'immediato post gara contro la RG Ticino ha anche lui fatto una sua analisi che puntava su una sorta di blocco psicologico io penso che sia questo poi alla fine la chiave la chiave di tutto perché comunque appena i ragazzi hanno gli azzurri hanno pressato sull'acceleratore nei minuti finali la RG Ticino si è difeso e ha rischiato anzi uno dei due tiri è stato proprio è stato proprio il suo e ha e ha messo in difficoltà il portiere avversario l'altro è stato quello di Gonzales forse più impegnativo ma questo testimonia che comunque il Novara se avesse giocato con quella grinta con quella determinazione che ha messo nei minuti finali tutta la partita probabilmente adesso staremmo commettando un risultato diverso quindi io penso che sia veramente solo un blocco psicologico un blocco che può interessare qualsiasi squadra dalla serie A alla serie D basta guardare nel massimo campionato italiano Milan e Inter che comunque stanno riscontrando le difficoltà e quindi io non mi preoccuperei più di tanto a patto ovviamente che la squadra riesca a trovare quella tranquillità quella lucidità che aveva nelle prime partite quindi l'abbiamo detto se ne viene fuori da squadra come da squadra ci si è andati a prendere dei meriti per aver saputo costruire un gruppo in tempo veramente record forse l'unica domanda che sollecita un po' tutto l'ambiente e che incuriosisce e potrebbe avere un fondo di verità è se quella preparazione così frettolosa e concentrata dei giorni del precampionato possa essere in qualche maniera non dico a totale giustificazione ma di un appannamento sul piano del rendimento fisico ma un periodo comunque durante l'anno di di calo più o meno tutte le squadre ce l'hanno naturalmente dobbiamo essere bravi noi adesso a farlo durare il meno possibile direi che sono state sufficienti queste tre partite diciamo e però la medicina che conosco comunque il campo il lavoro giorno dopo giorno la forza del gruppo e l'equilibrio soprattutto perché non non dovevamo esaltarci dopo otto vittorie di fila ma neanche adesso con con questo periodo così no diciamo dobbiamo abbatterci e quindi riprendere subito il cammino ma insomma ricordiamolo per quei pochi che se lo fossero dimenticati noi stiamo parlando intorno di messo ma stiamo parlando con la squadra che guida la classifica della serie di girone a e questo mi sembra che sia un elemento anche per condire meglio la medicina di cui parlava e renderla più efficace che non va mai dimenticato e di conseguenza tutto quanto di buono è stato fatto viene messo in discussione soltanto perché ci si aspetta naturalmente ogni volta la prestazione bella mi piacciono le persone alle quali chiedi qual è il libro più bello che hai letto e ti dicono quello che devo ancora leggere qual è il film più bello che hai visto quello che devo ancora vedere e credo che anche loro abbiano dentro di sé questo spirito che li porta a migliorare a rendere sempre di più che lo spirito che il mister cerca di far passare alla squadra perché mi sembra che questo concetto ritorni in un po tutte le dichiarazioni di mister Marchionni la partita più bella è quella che devo ancora giocare assolutamente sì come dicevo prima mercoledì abbiamo questa opportunità tra l'altro la serremese non gioca quindi possiamo diciamo far dimenticare tutto a tutti con una con una sola partita questo è il bello del calcio alla fine e naturalmente ora dobbiamo pensare partita dopo partita non guardare l'obiettivo a lungo termine ma valutare giorno dopo giorno e partita dopo partita tutto quello che che dobbiamo fare dobbiamo riprendere a fare e questo qui è la chiave e quindi un viaggio che è fatto di tappe meravigliose che sono le singole partite ma che ha ben presente quello che è il panorama che vuole andare a conoscere alla fine ed andarlo a raggiungere visto la tua origine va là non facciamo i patacca in questa situazione abbiamo il coraggio di dire le cose per fortuna come sono riconoscere magari questo momento di appannamento ma con la consapevolezza che su questo momento di appannamento non si può che prendere tre passi di rincorsa e gettare il cuore questo cuore azzurro oltre l'ostacolo diceva bene tommaso mercoledì quindi domani per chi ci sta guardando in onda one shot nella nostra prima uscita c'è già l'occasione di potersi rifare contro una squadra che cominciamo a guardare un po più in là non è sicuramente un avversario di quelli facili non sarà una partita del risultato scontato no prova ne è che proprio il Derton ha battuto in casa l'ARG Ticino in una partita comunque abbastanza equilibrata dove i padroni di casa non è che avessero giocato poi così male quindi ci sarà da prendere l'avversario con le pinze ma questo penso che Tommaso e i suoi compagni lo sapranno già benissimo da soli senza che gli venga ricordato è un'occasione unica perché riportare secondo me un vantaggio rassicurante sulla Sanremese che attualmente seconda tre lunghezze potrebbe permettere alla squadra a mio personalissimo avviso di giocare con più tranquillità con quella serenità e con quella lucidità che in attacco è venuta meno in queste ultime io direi due partite e mezzo perché alla fine è la partita con Ligorna che un po' ha fatto vedere un calo perché per il resto con il Bra secondo me la partita non era completamente da buttare anzi tutt'altro non dimentichiamoci che ci può stare una stagione lunga come la Serie D un momento no ma sta ai giocatori secondo me crederci fino alla fine perché è solo credendoci che puoi dare una svolta al tuo campionato e secondo me questa squadra ha tutte le carte in regola per poter dare la svolta prima di andare ad analizzare insieme e in ogni caso a vivere nel condensato degli highlights le emozioni di questa ultima gara di questo derby inedito del tutto contro la ticinese che abbiamo appena messo alle spalle però quello che a me preme dire è che questa partita ha segnato un momento molto diverso di impostazione dell'avversario nei confronti del Novara e anche in questo caso ci siamo trovati in difficoltà con qualcosa che forse dal mio modo di vedere la partita era inatteso gli altri dicevamo l'eitmotiv fino alla settimana scorsa arrivano e parcheggiano il pullman davanti alla porta e creano difficoltà perché fanno delle barriere ostacolano il gioco non impediscono in ogni modo lo scorrimento di palla rendono sterile la manovra mi sembra che invece in questa partita abbiamo assistito a degli avversari che hanno schierato un attacco decisamente di peso e i nomi li conosciamo a partire da Sansone abbiamo visto che cosa significhi avere la possibilità di schierare due punte di grande rilevanza e poterle sostituire a un certo punto con altrettante noi sotto questo punto di vista siamo stati penalizzati dagli infortuni per Eira in questa partita l'abbiamo trovato in tribuna e quindi non ha potuto giocare per un guaio fisico e ad Alfio a Vincenzo Alfiero è stato impedito di giocare dall'infortunio che non è leggero dovrà stare a riposo per un bel po di tempo proprio ad Alfiero è stato dedicato il momento della foto commemorativa pre gara bello sì io penso che sia stato un gesto bellissimo da parte di Tommaso da parte dei suoi compagni perché questo testimonia quell'unità di gruppo che diceva proprio prima Tommaso e che è poi un'arma in più che può sul quale il Novara può contare e deve contare quindi secondo me è stato un gesto veramente molto molto bello complimenti quindi a detta di quello che ci siamo raccontato abbiamo direi focalizzato in qualche maniera come si può riassumere la partita adesso buttiamo lo sguardo in avanti ma prima di farlo ci fermiamo un attimo noi qui perché quello che stiamo per lanciare sono gli highlights con le interviste post gara continuo al momento no del Novara dopo il pareggio di bra e la sconfitta interna subita contro il ligorna al berretta muttini giunge uno streminzito 0 a 0 contro le reggi ticino padroni di casa protagonisti del primo tempo con lionetti ad impensierire raspa sugli sviluppi di un calcio di punizione musica che non cambia nella ripresa con la formazione di mister costantino vicino al gol con una conclusione della distanza di sbrissa deviata in corner da un attento raspa si vede finalmente in avanti anche il Novara il tiro di tentoni è bloccato a terra da oliveto giovane portiere che si supera nel finale con una determinante grande parata sul tiro a giro di gonzalez al timite dell'area il palo colpito da gioco fermo dal neo entrato babacar di hop e l'ultima emozione di un match col triplice fischio finale a sentenziare uno 0 a 0 che porterà il novara ad essere chiamato ad invertire immediatamente la rotta è sembrato un po un novara che non è riuscito forse a mettere in mostra le proprie qualità ma è un qualcosa che ci stiamo dicendo da circa tre partite non abbiamo visto il novara oggi c'è c'è da dir poco non abbiamo fatto un tiro in porta quindi questo la dice la dice tutta mi dispiace perché secondo me oggi più delle altre partite c'erano tanti spazi che ti che si potevano attaccare invece quando sei mentalmente pesante poi non riesce a capire le situazioni che poi che puoi sfruttare poi quando si creano denti di testa cioè a cosa a cosa si deve non so la testa della classifica che inizia a pesare non lo so che spiegazioni si danno ecco le persone te ne potrei da tante ma secondo me se una squadra come il novara ha la testa pesante perché si trova il primo posto alla vuol dire che vuole vincere il campionato secondo me il novara se sia sia arrivato al primo posto deve essere uno spinta in più per il novara quindi non credo che sia il problema la testa della classifica questo momento proprio siamo lenti in tutto quindi la testa più di tutti più delle gambe è pesante non riesce magari a farti accorciare non ti riesce a fare fare l'uno contro uno non ti riesce a far tirare in porta quindi è preoccupante perché una squadra come noi come la nostra con questi spazi e non riesce a tirare un po di preoccupazioni mi viene non è stata una bella partita l'impressione che il novara nelle ultime tre gare nell'ultimo mese non sia più quel novara mirato fino alla pausa invernale cosa sta succedendo ma sinceramente io non sono preoccupato nel senso che l'intensità la squadra ce l'ha sempre messa poi è un momento che le squadre che si difendono in undici dietro la linea della palla magari non riusciamo a sbloccarla abbiamo qualche difficoltà in più ma ma anche per merito per merito degli altri poi se se qualcuno si era illuso di poter fare 20 vittorie di fila mi dispiace perché i campionati comunque a parte io sono stato a terni l'anno scorso si è vinto a febbraio marzo però capita una volta capita veramente di rado merito anche a chi ci sta inseguendo che ha fatto tante vittorie di fila però io da giocatore quello che quello che mi importa è che i ragazzi ci mettono sempre il massimo dell'impegno poi sono sicuro che la vittoria torneremo a insomma raggiungere la vittoria presto dal gallo d'oro galliate se dico birraria dico bene se dico panineria dico bene se dico ogni tipo di sfiziosità e cosine divertenti per spizzicare e mangiare pure dico bene comunque e diciamo bene anche per questo futuro perché dopo questa partita veramente bisogna gettare come dicevamo prima l'ostacolo dietro il cuore il mister vi ha messo immediatamente sotto non vi ha dato nemmeno un momento di riposo vi ha chiamato subito a raduno e vi siete dovuti ricompattare come squadra si può sapere qualcosa che già trappelato nel primo allenamento post partita ma ancora ancora nulla rispetto alla gara di mercoledì qualcosina rispetto naturalmente alla gara di ieri c'è stato però come dicevo prima abbiamo veramente poco tempo per preparare poi un'altra partita e quindi non c'è tempo di pensare al passato e dobbiamo preparare subito questa quest'altra partita importante tra l'altro una squadra come dicevamo prima insidiosa che non abbiamo ancora incontrato rispetto c'è questa diciamo casualità se vogliamo e quindi sarà un'altra partita tosta due partite di fila fuori casa e dobbiamo andare là come dicevo prima per ritrovare quella strada che poi per me ci darà un bello slancio da qui da qui alla fine posso azzardare la domanda tecnica nei tuoi confronti è lecito che io e tutti ci possiamo aspettare più soluzioni con la tua presenza in campo sì diciamo di sì perché comunque mi reputo un giocatore abbastanza duttile ho sempre ricoperto tanti ruoli anche anche in passato quindi diciamo che a centro campo se il mister vuole giocare a due a tre col trequartista e diciamo che tutti questi ruoli li ho fatti e quindi mi metto a disposizione io credo che abbia veramente il piede e la testa perché mi sembra che Tommaso sia un giocatore che gioca con molto acume tattico per poterci regalare delle soluzioni magari diverse che non soltanto le fasce non che a oggi si sia puntato tutto sulle fasce ma mi è sembrato di vedere già anche da questa partita che le sue soluzioni puntando in verticale il centro del campo si facciano interessanti sì sono d'accordo perché comunque serve anche quello in una partita anche soprattutto quando ci si trova di fronte un avversario chiuso molto chiuso la giocata da fuori può sempre essere una soluzione non è un caso che le due occasioni per innovare siano arrivate con tiri dalla distanza quindi penso che la presenza di Tommaso in campo possa dare un qualcosa in più con tutto il rispetto per gli altri compagni però penso che possa dare un qualcosa in più come soluzione, come gioco, come apertura e come senso anche dell'orientamento una sorta di faro per il centro campo azzurro e per cercare quelle giocate che possono in qualche modo portare la partita dalla tua parte quell'episodio favorevole che proprio Marchionni tante volte ha invocato nelle sue conferenze e che se ci pensiamo anche contro l'RG Ticino avrebbe potuto cambiare la partita perché immaginiamoci se il tiro di Tommaso oppure la palombella di Pablo in pieno recupero se non vado errato fossero entrate in rete ora staremmo parlando di una vittoria del Novara quindi alla fine un episodio in una gara può sempre cambiare tutto ed ecco perché è importante quello che dicevi tu cioè tentare anche con i tiri dalla distanza tentare con tentoni che sembra quasi il gioco di parole tentare con tentoni mi sembra giusto hai fatto un bel approccio al paragone con la Serie A dove tutte le grandi in questo momento stanno dimostrando di non vincere con così tanta snellezza come magari qualche giornata indietro cioè quando si è davanti diventa un peso continuare a correre a quel passo dover sempre tenere testa a qualunque avversario perché quello è il tuo ruolo perché così vieni riconosciuto per la storicità di quello che la piazza può rappresentare per l'importanza dello stadio a confronto delle strutture dove siamo ospitati spesse volte che sicuramente non hanno quella pil di un campo che soltanto dieci anni fa ospitava le gare di Serie A e sono tutte condizioni che i ragazzi secondo me possono avvertire come responsabilità a un certo punto non è un caso che magari ci siano dei momenti in cui nella preparazione delle gare e nella stessa preparazione fisica ci siano i momenti di rilascio dicevi che appunto durante l'anno c'è quel momento di flessione su cui bisogna ritrovare le forze per ripartire pensi che sia questo quel momento? Sì, sì, penso che sia questo dopo tre partite non felici serve per ritrovare l'entusiasmo, quella leggerezza che ci ha contraddistinto prima come dicevi bene te sicuramente stare lassù e per tanto tempo non è facile perché lo devi dimostrare sempre e non è una cosa facile mentre le altre non hanno nulla da perdere vanno in campo più spavaldi diciamo però io l'anno scorso ad esempio ho vinto il campionato con la seconda in classifica che ha fatto 11 vittorie di fila e quindi c'è stata una grande forza di gruppo che non manca neanche quest'anno e secondo me se ritroviamo appunto quella strada non ci deve interessare quello che fa la Sarremese perché comunque siamo ancora noi i padroni del nostro destino l'unica cosa è ritrovare appunto quell'entusiasmo quella strada che ci porterà lontano Una Sarremese che non sarà lontana nel calendario da dover affrontare perché non dimentichiamo che prima del 27 di marzo ci sarà una domenica un weekend comunque di riposo dove le squadre non scenderanno in campo per disputare le gare di campionato e di conseguenza non è tanto lontana quella data però se tu pensi che già vincendo domani contro il Dertona vai non più con quei tre punti perché ormai quello che si ripete da ieri che avevamo dieci punti ne abbiamo soltanto tre ma c'è questa partita da recuperare in primis e due che la sfida con la Sarremese reclama la vendetta di quella che fu la gara d'andata sicuramente non fortunata perché non dimentichiamo che la gara contro la Sarremese poi alla fine c'è stato un palo traversa non solo palo ma quella traversa palo con un tiro solo che non capita propriamente tutti i giorni dove dite se hai visto passare davanti la rogna e avresti voluto buttarla via a bastonate è che purtroppo ci è capitato e siamo ritornati Sanremo fu un momento particolare del girone d'andata perché da lì c'è stata una capacità di creare proprio il gruppo solido il gruppo inattaccabile il gruppo che ha fatto quello che ha fatto ad oggi tanti hanno buttato lì una possibilità di vedere l'attacco del Novara come un attacco VTi dipendente ma io non sono convinto che sia così perché la generosità di Dardan e quella dei suoi compagni di reparto ahimè adesso Alfiero è fuori, Pereira ha avuto questo infortunio però nel corso delle giornate si sono sempre proposti in maniera molto interessante Sì, Dardan naturalmente è un giocatore importantissimo per noi è il finalizzatore di tutto il nostro gioco però io sono sempre convinto che è la squadra che fa la differenza poi se non dovesse segnare un giorno Dardan e fanno gol altri due o tre giocatori magari anche Tentoni anche io mi metto tra quelli non è un problema e tutti saremmo lo stesso felici perché alla fine quello che conta è la squadra, la vittoria l'unica cosa è che naturalmente avendo un attaccante d'aria come lui il nostro gioco deve essere improntato giustamente per far segnare a lui però naturalmente anche gol da parte di qualche altro mio compagno io stesso non sarebbe una brutta cosa Possiamo pensare Giovanni che da qua alla fine del campionato questa sarà la squadra con tutti gli elementi al loro posto ormai con delle posizioni piuttosto ben definite e con quelle possibilità che Tommaso incarna proprio con la sua figura che si sono andate ad aggiungere arricchendo le possibilità di concretizzare il gioco che è nella testa del mister e che è quello che abbiamo visto fino ad oggi Sicuramente il Novara si è rafforzato ulteriormente rispetto alle primissime partite sono arrivati tanti giocatori di spessore tanti giocatori in grado di fare la differenza come ad esempio Momo Laribi che nel suo ruolo di trequartista ha messo in difficoltà diversi avversari anche perché è un giocatore molto imprevedibile però io penso che al di là di tutto il mister abbia fatto capire e Tommaso lo può confermare meglio di tutti che un 11 titolare non c'è mai questa è un po' una sorta di novità per Novara perché una sua ossatura i tifosi erano abituati a vederla mentre invece con mister Marchionni vediamo che ci possono essere tante sorprese anche solo per la porta per dire ad esempio nel vedere la formazione iniziale contro la RG Ticino ha colpito il fatto che Amoa Beng sia partito dalla panchina questo perché secondo me mister Marchionni punta molto sulla forma sulla condizione sulla testa anche dei suoi giocatori quindi io penso che il Novara possa puntare anche su quello perché ha una rosa ampia di valore chiunque subentri può cambiare la partita e lo può fare in qualsiasi momento quindi questo è un valore aggiunto in più che va a rafforzare quello che dicevi tu cioè il fatto che sul piano della rosa secondo me il Novara non è uguali siamo convinti anche che la scelta di schierare un portiere piuttosto che l'altro a parità di valore perché mi sembra che tutte e due si esprimano sempre in maniera importante anzi dirò di più Matteo ha fatto una partita per me bellissima Raspa ha fatto una parata su un'azione nel primo tempo direi provvidenziale quindi secondo me il Novara ad oggi ha tre portiere perché ricordiamo che c'è anche Tagliento uno più affidabile dell'altro e direi che questo dà la possibilità di gestire comunque il discorso degli under perché guardando l'anagrafe dei tre di difesa ieri era prevedibile che si potesse pensare a Raspa tra i pali e comunque ogni volta che vengono chiamati in causa avere portieri così pronti a me da soltanto un senso di sicurezza ancora superiore quindi ci sono tutte le carte in regola per continuare a essere Novara punto e basta io non credo che ci sia da condire con nessun'altra parola arricchire il discorso ulteriormente mi sembra che la ricchezza sia la forza della squadra sia la forza della squadra e questo feeling con il pubblico perché cosa di non poco conto sembreremo banali sembra che la vuoi mettere lì per fare la ruffianata o come dicono quelli che sanno la captazio benevolenzia no col cavolo ragazzi ogni volta voi uscite dal campo tra gli applausi mi hanno chiamato sotto la curva è stato comunque un momento di sostegno alla squadra a Novara non sempre la curva o il pubblico è così generoso vuol dire che se questo feeling c'è va tenuto vivo e anche su quello bisogna far leva per continuare a fare del Piola il Fortino e quando si esce visto che il pubblico segue anche durante le trasferte avere la certezza che c'è sempre qualcuno che spinge e che soffia su quelle vele per portare avanti tutto io credo che ci siamo raccontati sostanzialmente tutto di quello che andava detto per quanto riguarda Pereira ci puoi svelare se si sa l'entità del suo infortunio se può essere una cosa una cosa di poco conto da quello che ho sentito oggi già sono stati fatti gli esami e non c'è niente di grave l'unica cosa dispiace per non l'ho detto prima ma dispiace per Vincenzo naturalmente penso che sia stato un gesto importante perché è il ragazzo d'oro che si è integrato benissimo nel gruppo e questo per far capire anche magari alla gente che non vive lo spogliatoio quanto sia unito e quanta voglia c'è appunto tutti uniti di raggiungere l'obiettivo ma anche noi che viviamo alla tribuna possiamo dire che Vincenzo Alfiero la partita l'ha vista in piedi gli è stato offerto a più riprese la possibilità con le sue stampelle di avere un posto seduto ma lui ha detto preferisco vederla da in piedi quindi questo la dice lunga su quello che è l'attaccamento alla maglia e il sentirsi parte viva di una squadra anche quando sei purtroppo costretto a rimanere fuori assolutamente sì l'ho vissuto io per poco tempo per tre partite per me star fuori è peggio di essere in campo a livello di agitazione di proprio senso nello stomaco di vuoto perché sei lì che non puoi fare nulla per i tuoi compagni non li puoi usare e mi dispiace ancora una volta per lui però gli siamo tutti vicini e ci darà una mano da fuori quella fotografia voi in maglia bianca con la cupola sul fianco con la maglia numero 18 azzurra che spiccava in mezzo al gruppo è stata un bel segno e lo guardavo con la coda dell'occhio al di là dei compagni che stavano seduti davanti e un po' sfottevano non dà la lacrimuccia ora però l'occhietto era lucido era lucido e quindi Alfio è molto partecipe dell'avventura e non manca di sostenere un tifoso in più in questo momento assolutamente sì assolutamente sì esatto speriamo prima possibile va bene allora con questa puntata di Cuore Azzurro direi che è veramente tutto io ringrazio Giovanni complimenti per i tuoi speciali pre e post partita tutte le volte grazie a voi diretta live sempre molto divertente tra l'altro li condividi con Marco che salutiamo e naturalmente grazie a Tommaso Tentoni io ti dico anche bentornato a questo punto grazie grazie mille 100% fino alla fine 100% anzi come l'edilizia 110% con il bonus non ci si ferma più non ci si ferma più bene ragazzi allora tutti allo stadio perché comunque sarà sempre una festa e deve essere festa fino in fondo da Cuore Azzurro è veramente tutto ci risentiamo alla prossima puntata ringraziamo il gallo d'oro di Gagliate e adesso ci rinfreschiamo un attimo la gola ciao a tutti